La sindrome delle apnea ostruttive nel sonno è al centro di un dibattito sulla sua rilevanza nell'ambito di quelle che sono le implicazioni sociali e sanitarie. È una patologia la quale determina una serie e alla base di tantissime altre patologie. Sono delle comorbidità di tipo cardiovascolare, basti pensare a quella che è l'ipertensione arteriosa. È una patologia che frequentemente determina una serie di problemi cerebrovascolari, fino all'ictus. È una patologia che determina una serie di patologie a carico del cuore. Pensiamo a quelle che sono le coronaropatie. Oltre a tutto questo genere di implicazioni è una patologia che frequentemente è anche alla base di patologie estremamente note, di cui parliamo regolarmente. Pensiamo al diabete, pensiamo al problema del colesterolo piuttosto che dei trigliceridi. Pensiamo a problemi ancora più frequenti, l'osteoporosi piuttosto che i problemi visivi. In realtà ci si è ritrovati a dibattere di una patologia che frequentemente è alla base dello sviluppo di altre malattie che hanno enormi implicazioni, sia a livello sanitario con grandi implicazioni su quelle che sono i costi, sia su quella che è la vita di tutti i giorni. Chi è affetto dalla patologia delle apnea ostruttive nel sonno frequentemente ha un riposo notturno che non è sicuramente di quelli più ristoratori, non riesce a riposare benissimo, ha un'alterazione di quello che è il suo modo di dormire e nel corso della giornata si può ritrovare o con un rallentamento dei riflessi, si può ritrovare spesso e volentieri con anche una sonnolenza, una sonnolenza che può ovviamente inficiare quella che è la sua capacità di svolgere le varie attività, da quello che è lo sviluppo dell'attività lavorativa a quello che è l'essere coinvolti in attività di tipo manuale, una minore quindi capacità di esecuzioni di questo genere di attività. Tutto questo è stato al centro del dibattito della tavola rotonda che si è tenuta qui alla biblioteca Spadolini del Senato e del quale si è dibattuto volendo porre sempre l'accento su quelli che sono i due grandi decreti che sono usciti nel corso degli ultimi 12 mesi. Uno riguardante l'idoneità alla patente di guida di questi soggetti che quando sono presento nel quadro associata a un'eccessiva sonnolenza durante il giorno hanno una limitazione appunto alla loro capacità della guida e proprio per questi soggetti si è intervenuti ponendo dei limiti alle idoneità con una necessità di essere in corretta cura perché proprio la cura riesce ad eliminare il problema. Quindi sono soggetti che hanno una sospensione temporanea in questo caso, possono ritornare ad essere idonei anche se per tempi di rilascio della patente sicuramente inferiori, normalmente dai 10 anni di validità di una patente questa si riduce a 3 anni quindi deve essere rinnovata con maggiore frequenza piuttosto che quelli che sono i percorsi cui questi soggetti possono essere sottoposti per essere identificati. In Italia sappiamo che circa 6 milioni di persone presentano la patologia e di questi circa 2 milioni quindi un terzo in modo veramente eclatante. Sono soggetti quali nei loro percorsi si vedono tre stadi un primo stadio che è quella della loro identificazione, identificazione che il più delle volte dovrebbe avvenire da parte del medico di medicina generale il quale ponendo all'attenzione quelli che sono i sintomi cardine della patologia deve avere il sospetto perché in realtà questi sono i soggetti che il più delle volte riempiono le sale di attese perché sono soggetti che sviluppando tante altre malattie hanno un maggiore fabbisogno di prescrizioni, hanno un maggior fabbisogno di richieste di visite specialistiche, di esami ospedalieri per cui sono sempre più alla loro attenzione. Un secondo livello a cui poter far afferire questi soggetti per una diagnosi e una via al trattamento che il più delle volte si ritrova in quelle che possono essere le strutture del territorio piuttosto che in strutture ambulatoriali degli ospedali dove questo percorso può essere effettuato per lasciare alle situazioni più complesse uno spazio all'interno di strutture ospedaliere con la possibilità di poter essere osservati da più specialisti a secondo di quelle che sono le complicanze che il soggetto presenta.